Io ritengo che al giorno d'oggi le proposte formative in riabilitazione sono spesso di natura monotematica, laddove si fanno corsi di riabilitazione neurologica o corsi di riabilitazione ortopedica. La TC nasce anche da questa esigenza di superare questa visione per settori, ambito neurologico, ambito ortopedico, perché io credo personalmente che questo non sia vero. Problematiche di natura neurologica e di natura ortopedica convivono nel momento in cui noi trattiamo un paziente, quindi questa suddivisione anche seppur forzatamente può essere accettata solo dal punto di vista didattico, ma non può essere accettata nella pratica clinica. Quando noi interveniamo, pianifichiamo e interveniamo da un punto di vista riabilitativo, abbiamo a che fare con sistemi che sono mutevoli, sia all'interno dello stesso quadro clinico, sia da individuo a individuo. Quando noi trattiamo un paziente anche semplicemente allungando un muscolo, di fatto allunghiamo un nervo e non possiamo quindi pensare che stiamo intervenendo soltanto su una struttura. O per fare ancora un altro esempio, se noi trattiamo un paziente mipleggi con l'esito di un ictus, in realtà non possiamo soltanto fare riabilitazione tra virgolette neuromotoria, perché quel paziente e il suo sistema nervoso hanno a che fare con una periferia corporea che si è notevolmente compromessa dal punto di vista strutturale. Ecco perché nell'approccio terapeutico combinato teniamo fortemente in considerazione questa visione unitaria del sistema uomo sul quale andiamo a intervenire, quindi soltanto una visione integrata, come i miei colleghi sanno bene, può essere quella più logica e più edonea a descrivere un intervento riabilitativo. Ecco perché all'interno del corso base pongo molta attenzione anche agli aspetti del ragionamento clinico, perché il ragionamento clinico è una visione, è un orientamento di pensiero che consente di prendere una decisione e per far questo non possiamo che considerare tutte le componenti strutturali e funzionali che in quel momento concorrono a determinare una presentazione clinica. La tecnica dell'approccio variabile tiene fortemente in considerazione le attività svolte dall'organo recettoriale del tendineo del Golgi e dal fuso neuromuscolare nella loro capacità di regolare meccanismi di tensione e di attività del muscolo.